all body position ottimo esercizio per lavorare il core chiamato anche barchetta nel diciamo nel gergo italiano è un esercizio molto utilizzato anche in discipline come la ginnastica artistica quindi da cui puoi capire che è veramente un grandissimo esercizio per rinforzare gli addominali e il core in generale ora andiamo a vedere come si deve fare per eseguire al meglio allora ti metti steso in questo modo qua quello che fai è palmi delle mani verso l'alto tiri sulle spalle distendi una gamba mi raccomando già pare con la schiena appoggiata e poi sta in questa posizione glutei contratti zero lombare che si appiattisce a terra ombelico tirate in dentro eccolo qua questa è la nostra barchetta ora come dicevo questo esercizio è ottimo per lavorare il core l'addome in generale se dovesse avere difficoltà a farlo magari mentre vai avanti con le serie puoi renderlo più semplice per esempio potresti alternare una serie con una gamba distesa e una raccolta al petto quindi diventa questo vedi schiena piatta sto su magari faccio una serie con una gamba piegata all'altra distesa la serie successiva cambio altra gamba piegata alta distesa l'importante che la schiena sia ben poggiata a terra con mi raccomando conterai glutei e addome